Ciao a tutti ragazzi, qui Alec, oggi questo è un video rapidissimo e uscirà probabilmente alle 7, lo vedrete ed è un video di ringrazio per Aragris, che è un grafico che mi ha fatto la nuova intro non è una intro come le precedenti che erano fatte for fun da alcuni fan, ma lui è un grafico serio di fatti l'ho anche comunque pagato e volevo, ci tenevo a farvela vedere, tant'è vero che questo è un po' un video dedicato a questa intro la vedrete per la prima volta alla fine del mio monologo iniziale, che durerà poco vi ricordo che in descrizione di questo video ci sarà il link del canale di Aragris dove potete trovare diversi contenuti, oltre all'intro che lui fa per i diversi youtuber soprattutto dei video in real life, fatti, montati da lui, con effetti speciali molto fichi l'ultimo che ha fatto, se non sbaglio, è quello relativo a Pokémon GO in real life ed è veramente molto bravo, quindi vi consiglio di andarlo a seguire, iscrivervi al canale e vedere i suoi video ovviamente per qualsiasi persona che volesse una intro, può benissimo contattarlo perché lui in breve tempo comunque riesce a realizzare e fa veramente, veramente dei bei lavori ha fatto intro per tantissimi canali, da cui anche Wagna che è un canale grande che conosco, ma non solo quindi andatela a vedere, mi raccomando, lascio il link in descrizione ringrazio ancora Aragris, da Alec è tutto, vi lascio alla intro e ringrazio ancora Aragris, da Alec è tutto, vi lascio alla interessa